E adesso invece parliamo di sport e facciamo il punto sulla situazione calcio dilettanti coronavirus. Abbiamo sentito nei giorni scorsi l'assessore del comune di Chianciano Terme, Damiano Rocchi, insomma chiedere un aiuto per la Virtus Chianciano usando parole e toni anche forti nei confronti della federazione. E' con noi adesso in collegamento il presidente del comitato regionale toscano della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini che saluto e che ovviamente vorrà un aggiornamento, ci farà un aggiornamento. Buonasera Mangini, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi di avermi chiamato. Allora, avrà avuto modo di sentire l'intervento qua sotto l'idea dell'assessore del comune di Chianciano Damiano Rocchi che ha alzato un po' i toni nei confronti anche della federazione. Ecco, a cosa vuole replicare a questo proposito? Ma devo dire, io ho ascoltato molto attentamente e con interesse quello che l'assessore ha detto condividendo alcune cose, però nel suo intervento l'assessore ha utilizzato alcune frasi tipo che noi avremmo fatto il compitino, che saremmo sordi e ciechi di fronte ad alcune situazioni, che ce ne frega altamente delle società. io penso che lui si stia riferendo ad un'altra organizzazione, non certo alla nostra, perché se si riferisce alla nostra, allora forse penso che non conosca esattamente quello che noi facciamo. Il comitato regionale da sempre, ma soprattutto negli ultimi mesi, ha avuto una vicinanza veramente forte, stretta, ma non solo da un punto di vista economico. Anche questo potrei citare le cifre, che sono cifre enormi che noi abbiamo messo in campo per la ripartenza delle società. Ma vorrei invece citare la vicinanza, l'ascolto e anche in questo caso, molte volte, anche la presa di posizione e, diciamo così, alcune decisioni che noi abbiamo fatto, anche in qualche modo interpretando regolamenti. Perché i regolamenti noi non è che ci riguardiamo tutti i giorni e ci facciamo il compitino, i regolamenti sono regolamenti che stanno alla base di un'organizzazione, ma che in alcune situazioni come questa devono essere anche in parte interpretati, come del resto abbiamo fatto. Quindi la nostra organizzazione ha un'organizzazione che prevede quasi come statuto l'avvicinanza vera. Per tornare al problema di Chianciano, della società Chianciano... Sì, anche perché su questo c'era una problematica legata ovviamente all'impossibilità di disputare le prossime gare programmate per l'impossibilità di utilizzare gli spogliatoi. Ecco, su questo non so come... qual è l'ultimo aggiornamento? Ecco, dicevo, vorrei tornare sulla situazione della Virtus Chianciano, dividendola in due momenti. Il primo momento, quando la Virtus purtroppo, come ha successo ad altre società, alcuni suoi elementi sono stati colpiti, sono stati risultati positivi al coronavirus. E hanno dovuto poi andare in quarantena tutta la squadra, che è finita il 5 di ottobre. Quindi se il regolamento, se io avessi dovuto seguire pedisticamente il regolamento, l'11 di ottobre avrebbero dovuto giocare. Invece, considerando quello che loro ci dicevano, la mancanza degli spogliatoi, il problema di dover ricominciare, noi abbiamo spostato la partita dell'11, abbiamo spostato la partita del 14, è chiaro che avendo una rosa, così come ci dicevano loro, è già pronta, io non potevo spostare anche quella del 18, perché a questo punto andavamo al di là e non avremmo mantenuto in qualche modo anche la garanzia a tutto il sistema. E delle altre squadre. Si dice, cercate un campo, noi al limite possiamo aiutare a cercarvi il campo, come abbiamo fatto, e anche cercare il campo non è una cosa da poco, è la vicinanza che diamo alle società. Perché diciamo, in questo modo noi non possiamo rimandare solo perché non c'è il campo. E noi abbiamo cercato anche di dare questo ausilio. Quindi il problema del primo momento era essenzialmente la mancanza degli spogliatoi, ma non del campo. Poi si è palesato a un problema anche di quantità di persone, perché ci sono ancora due positivi, quindi l'impossibilità di giocare per chi in pochi, ho capito bene? No, è arrivato il secondo momento, quando ieri, con una comunicazione, il presidente, con cui poi ho parlato in maniera molto amabile oggi per diversi minuti, ci ha fatto presente chiaramente a questo punto che il problema non erano tanto, oppure non solamente, gli spogliatoi, ma che c'erano dei casi di positività pregressi. Cioè gli stessi componenti della Rosa che avevano avuto, che erano stati positivi, al Covid ancora erano positivi. Quindi il problema cambia, cioè cambia la prospettiva. Ma questo in maniera chiara, ripeto, in maniera chiara, noi l'abbiamo saputo ieri, perché fino all'altro giorno, come del resto ha detto anche l'assessore, il problema maggiore era gli spogliatoi. Ho capito. Allora, se cambia la prospettiva, che in questo momento è veramente un'altra prospettiva, cambia anche il modo in cui il Comitato cerca di risolvere. E infatti sono state prese oggi delle decisioni inerenti appunto alla nuova, la nuova, l'accertata ora, dopo che ci è stato detto chiaramente, situazione. E quindi? Dimostrando ancora una volta grande vicinanza e, come dire, anche ascolto di quelle che sono le vere necessità. Quindi la Virtus Chianciano potrà non giocare? Quali sono le decisioni prese? No, la Virtus Chianciano, proprio perché questa pregressa positività di alcuni elementi della Rosa è chiaro che li mette in difficoltà estrema e noi a questo punto, come dire, rimandiamo alcune gare, io ho già parlato con il Presidente, abbiamo concordato gare e recuperi in modo tale che nessuno si senta in qualche modo penalizzato. questo è il modo di procedere, cioè capire, intervenire, posizionamento anche rispetto a regolamenti che in qualche modo devono essere interpretati in questa situazione eccezionale, ma mantenendo l'intero sistema che è fatto di migliaia di squadre, che è fatto di quattro categorie, eccellenza, promozione, prima, seconda e terza, con migliaia di squadre che non possano essere bloccate per il momento, diciamo così, in maniera del tutto, come dire, anche settoriale. Devo tenere di conto di tutto, tenendo conto anche delle vere necessità e dove è possibile intervenire come abbiamo fatto in questo momento. Benissimo. L'ultima cortesia, quindi su questo, insomma, mi fa piacere che sia stata fatta chiarezza e non avevamo dubbi, insomma, che una volta capito esattamente le problematiche, sarebbero trovate soluzioni, mentre rimane un po' il nodo della seconda categoria. Domenica non è scesa in campo il girone N della seconda per cercare di, insomma, spingere la modifica di un protocollo sanitario molto stringente per i dilettanti, quello appunto della quarantena pesante per chi lavora, e domenica prossima e non si è capito cosa accadrà. Ecco, su questo le chiedo un aggiornamento. Ma io, i nostri consiglieri di Arezzo e di Siena, in questa settimana, hanno contattato le società. Io penso che tutte le società, in qualche modo, disputino la gara domenica. Io veramente sono impegnato, l'ho già detto, il protocollo sanitario purtroppo non lo posso cambiare io. Io posso solo spingere la regione, con quella quale ho già avuto un ulteriore colloquio, a modificare, soprattutto a uniformare, le procedure che le varie ASL adottano nella nostra regione. Alcune ASL adottano una procedura, chiamiamola più soft, impropriamente, altre adottano una procedura più rigida. Io vorrei che la procedura più soft fosse patrimonio di tutte le ASL. Io però non ho la possibilità di incidere sulle ASL. Io posso solo promuovere e spingere gli enti proposti, come ho fatto in questo periodo, non ultimo anche ieri, a andare in questa direzione. Proprio perché questo problema, come ho sempre detto ormai da un mese, è un problema che non riguarderà solo il calcio, ma riguarda l'intero sport. Perché tutti gli altri sport, palla a volo, palla a canestro e altri ancora, avranno purtroppo lo stesso problema. Quindi questo è un problema che va risolto, se è possibile. Se è possibile. Va affrontato e comunque lo state affrontando. Ecco, questo è importante. Noi la ringraziamo per queste precisazioni e soprattutto per averci consentito di poterle divulgare e di mettere un punto di chiarezza. per ulteriori aggiornamenti restiamo a disposizione e le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi per l'opera di informazione che anche stasera è stata fatta, perché più le società conoscono, diciamo così, le problematiche che noi dobbiamo affrontare, più che sicuramente riusciranno anche a capire le enorme difficoltà in cui noi ci troviamo molte volte a dover decidere e a dover agire. Grazie davvero. Grazie, grazie a lei. La situazione non è semplice, è complessa e con la buona volontà poi le cose pian pianino appunto si affrontano. Grazie ancora a Paolo Mangini, presidente del Comitato Regionale Toscano della Riga Nazionale Dilettanti. Grazie a lei. Io ringrazio i nostri telespettatori. Il Tg finisce qui. Grazie di averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a lei.